salve a tutti e allora iniziamo con le testate del x9 quindi che cosa andiamo a vedere in questo in questo video e allora partiamo dal ricordare che precedentemente in qualche altro video abbiamo parlato di questa testata del x9 che non andava e c'è stato un problema sulla testata e quindi sono state fatte ulteriori lavorazioni sulla testata per un po andare a recuperare il discorso che andava in sul riscaldamento poi perché andava a picchiare poi perché la macchina non camminava più quindi che cosa andiamo a valutare in questo discorso del come primo inizio mi sono state fatte avere queste testate per poter valutare qual è il discorso allora abbiamo analizzato l'altra volta che avevano delle diverse problematiche a livello di testata e per andarla a riprendere come andiamo a vedere in questo caso poi di profilo sull'altezza dell'area di switch è stata abbassata è stato creato un gradino nella parte inferiore per abbassare il rapporto di compressione anche l'area di switch perché ritenevano che andava un po a detonare ma il discorso che non camminava non era questo quindi a parità di sezione di valvola che per un 1600 e le sezioni dello scarico erano leggermente ristrette però anche se leggermente ristrette la macchina doveva dare delle come dire delle prestazioni solo che hanno sbagliato un discorso come ritengo sempre opportuno fare vedete questa è un po la sezione dell'aspirazione se andiamo a misurare l'imbocco dell'aspirazione e vediamo che siamo a 33 ma perché è stata lavorata un po un po troppo anche l'imbocco c'è da vedere la sezione interna che momentaneamente non riesco a misurarla così devo inserire un tampone dentro però se andiamo a vedere lo scarico hanno riportato la sezione di uscita uguale anzi qualcosina in più e allora che cosa succede che rispettando gli altri criteri delle altre testate vedete un po qua se l'aspirazione abbiamo un certo diametro anche l'uscita dello scarico vedete quanta è la differenza quindi va a creare quel gradino antiriflusso che vi ho spiegato in tanti video proprio per evitare uno svuotamento del motore in questo in questo discorso va a fare soltanto che essendo la sezione più ampia e quindi se non è accompagnata bene dallo scarico ma anche se andiamo a mettere uno scarico con una sezione leggermente uguale anche a questa abbiamo un'uscita che troppo divergente sulla testata quindi non va a creare quei benefici di avere una sezione leggermente più ristretta qui proprio all'uscita della testata in questa sezione ripeto in un altro motore mi è successo che analizzando pure questo inconveniente però in un motore pecio che poi andremo a vedere anche sull'altra testata andava a perdere più di 25 cavalli in quel discorso in questo non non lo so quantificare però le le perdenze ci sono e allora che cosa dobbiamo fare con questa testata intanto io ancora non l'ho flussata quindi lo andiamo a prendere come parametro di confronto visto che era quella che dobbiamo andare a cambiare le sete parvole però al posto di questa testata andiamo a lavorare su questa anche se come ripeto nell'altra volta dobbiamo fare questa saldatura di ripristino ma che sono queste qua sono delle sciocchezze in confronto a quello che aveva sull'altra testata e dopo aver fatto questa lavorazione andiamo a flussare questa nella condizione che è ancora originale proprio per andare a fare un riferimento con un controllo del condotto in questa sezione perché in questa sezione perché qualcuno va a sbagliare anche la sezione del condotto dell'aspirazione proprio perché non è una sezione tonda e dobbiamo per forza continuare con quella sezione tonda proprio perché dobbiamo andare a creare se ci riusciamo quindi con le dovute lavorazioni una rotazione del flusso che entra dentro la camera quindi il condotto stesso va lavorato con una geometria un po diversa quindi non con le classiche lavorazioni che abbiamo visto sulle altre testate questa per esempio una testata nuova proprio nuova di zecca nel senso che è fatta in uno stampo nuovo ma è per un motore turbo che poi ne andiamo a riparlare l'ho presa soltanto come riferimento proprio perché già questa sarebbe finita ma ne andiamo a fare pure un controllo di flussaggio perché in questa sono state cambiate le sezioni di come condotti però ripeto questa che è una nuova fusione non dovete mai confondere con quelle del stato originale proprio perché in queste qua se lo andate a vedere all'interno dei passaggi di diffusione sono ampiamente più rinforzate come sezione di passaggio quindi possono essere tranquillamente lavorate con delle sezioni di condotti più ampi anche se poi andando a valutare bene poi benefici non ne abbiamo tranne se non dobbiamo girare troppo in alto quindi dobbiamo adeguare le sezioni di passaggio in base agli giri che andiamo a mettere e al tipo di gamma che vogliamo utilizzare in questo caso il discorso dello scarico su questa testata ripeto come abbiamo detto l'altra volta dobbiamo andare a cambiare le sezioni delle valvole anche se ho preso delle valvole leggermente più ampie e prima di andare a fare un po il riporto sete quindi andiamo a togliere le sete valvole su questa testata cercherò di beneficiare di queste sete che poi dobbiamo andare a togliere proprio per arrivare a una sezione di passaggio per vedere il diametro delle valvole che possiamo andare a usufruire su questa valvole quindi se mettere quella dal diametro 33 o questa da 34 come ho ordinato le valvole ma proprio perché ne voglio usufruire leggermente della fluidinamica qui all'uscita ma poi come sezione di condotto lo andiamo a lavorare per come ci interessa poi a noi quindi alla fine il diametro della valvola è relativo quindi ci interessa avere una buona uscita del flusso qui in camera per avere uno svuotamento bene poi a livello di condotto lo andiamo a lavorare in base all'esigenza che ne andiamo a utilizzare per il tipo di gamma che dobbiamo andare a misurare che abbiamo al limite fatto l'altra volta anche la misurazione ora non mi ricordo se ancora la dovevamo completare come misurazione e comunque come riferimento standard per adesso andiamo a prendere sempre l'ultima che abbiamo lavorato come ripeto sulla testata del turbo proprio perché sono simili come comportamento di testata anche se poi l'utilizzo è diverso però abbiamo visto che con questa sezione di passaggio e con questo diametro di geometria anche come riferimento di sezione di valvole perché abbiamo visto che la geometria del passaggio della sede della sede valvola va a cambiare un po anche le prestazioni del riempimento quindi al di là che poi dobbiamo fare una lavorazione in camera come questa che è stata già fatta però ripeto questi benefici li andiamo a trovare come lavorazioni in base al diametro della sede quindi non dobbiamo per forza aumentare sempre la sezione di passaggio e allora ripeto andiamo a fare tutti questi controlli diciamo iniziali prima di procedere alla lavorazione anche perché poi verranno sostituite anche le guide che in questo caso queste sono state preparate cioè prese proprio per andare a montare sulla testata visto che queste montano le valvole stelo stelo da 8 mm e queste sono stelo da 7 mm per lo più che hanno un vantaggio queste valvole qua sono qualche millimetro più lunghe del dello stelo proprio per andare a compensare al limite e l'abbassamento del cerchio base della beracam quindi invece di andare a spianare castelletto ritrovarci poi con un discorso di basculamento del bicchiere dentro il castelletto in questo modo andiamo a recuperare meglio lo spazio che dobbiamo avere come regolazione valvola tra valvole castelletto e alberacam quindi andiamo a mettere dei piattelli valvole leggermente più basse per andare a recuperare peso nel nel girare il motore quindi come peso del componente del della massa alterna della della testata lo andiamo ad alleggerire in questo modo quindi queste sono delle guide con un bronzo un po particolare non sono il classico bronzo colore acciaio voglio fare vedere il classico colore l'acciaio c'è dorato vedete questa colorazione di bronzo questo è il bronzo normalmente che viene impiegato invece questo qua è molto più rosso e proprio perché ha una percentuale di rame viene chiamato un tipo di bronzo fosforoso quindi una lega un po più particolare sembra morbido però nella lavorazione sembra morbido però una resistenza all'usura molto più elevata rispetto agli altri e perlomeno io l'ho provato con una lega che ho preso dei bustolotti per andare a fare delle guide mi sono ritrovato con queste caratteristiche e allora andiamo a fare il controllo e poi ne andiamo a parlare dopo dopo aver fatto almeno i primi controlli della lettura e allora prima di stavo iniziando un po a montare tutte le valvole sia su questa testata che dobbiamo sostituire è quella che dobbiamo andare a mettere per avere il confronto della testata originale solo che volevo farvi notare un'altra cosa vedendo che c'era l'ultima valvola che ancora montata era smontata adesso vedete la valvola non andava a chiudere addirittura quello dello scarico vedete come era nera se andiamo a guardare tutta la valvola nera io ho pulito soltanto una parte dietro vedete in questa posizione vediamo se riesco a farlo vedere in questa posizione che guardandola di profilo addirittura si va entra a vedere che nella parte centrale della valvola va a creare un gradino come di consumo difatti se andate a vedere proprio la parte del profilo della valvola vediamo sulla sede valvola che c'è una parte lucida proprio all'estremità quindi questa estremità e l'estremità parte interna proprio perché sulla parte centrale già si è bruciata la valvola non andava più a chiudere e si è consumata proprio perché andava andava poi in sul riscaldamento quindi il materiale diventa più molle sotto l'azione delle molle va a consumare di più le valvole anche perché leggermente pure fuori fase vedete quanto è nera non tanto per la carburazione che potrebbe portare questo questo danno soltanto che andiamo a vedere anche nei condotti abbiamo lo stesso comportamento quindi andava il riflusso l'aspirazione quindi è nera perché dovrebbe essere in questo caso bianca non annerata in questo modo lo scarico lo posso lo posso capire anche se non funzionava male cioè se funzionava male già lo capisco che lo scarico abbiamo sempre nero ma sull'aspirazione no e in questo caso e allora ripeto si vanno a pulire le due valvole si fa questo ho pulito una camera per andare a montare la valvole su questa andrò a montare pure sullo stesso cilindro e andiamo a fare due confronti e vedere se intanto il distacco da questa qua di quant'è e poi vediamo di cambiare geometria interna dei condotti per vedere se andiamo a trovare qualche cosa di diverso oppure un senso di rotazione del flusso che potrebbe agevolare anche il riempimento della testata ok vado a montare tutto e vediamo le due prove e poi ne ripariamo dopo e allora ho finito di fare le due testate quindi possiamo andare ad generalizzare i dati della della testata questa quella normale ancora che si deve lavorare l'altra quella che un po distrutta diciamo che l'ho frustata pure andiamo a capire un po l'orientamento come ci possiamo sistemare sul meglio al limite farò qualcosa andiamo a fare qualche prova di di modifica su quella distrutta quella già fatta per vedere di poter modificare qualcosa e salvaguardare almeno questa qua che dobbiamo andare a fare la modifica sulle sete valvole di scarico ok andiamo un po a vedere i risultati e poi andiamo a vedere poi la testata cosa c'è da fare e allora iniziamo con i dati questa è la testata quella normale quindi questa è l'aspirazione flussata nel senso giusto e poi ho fatto la prova pure nel senso contrario quindi andiamo a vedere che anche nel senso inverso abbiamo dei miglioramenti nella sezione di passaggio quindi voglio vedere se lavorando soltanto la sede nel raccordando in camera possiamo arrivare a un certo livello come abbiamo come portata senza andare ad avere perdita di velocità nel condotto e poi ho fatto pure lo scarico nel senso giusto e al senso inverso e giustamente andiamo a perdere come come linea di portata proprio perché abbiamo l'ostacolo sempre della valvola che abbiamo il piattello della valvola di fronte quindi se andiamo a controllare il dato della dell'aspirazione con l'altra quella vecchia quella che abbiamo avuto dei problemi ma più che altro il discorso che non camminava pure discorso dello scarico troppo aperto anche se poi vedete qua nel funzionamento della valvola di aspirazione e due condotti si vede che c'è il miglioramento già dovuto sia alla sezione anche a lavorazione della 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 sede valvola del condotto quindi andiamo un po a fare qualche qualche prova addirittura su questa quindi sulla camera questa invece la linea che dobbiamo avere finale poi andate a vedere vedere quanto è lo spostamento che abbiamo dobbiamo avere sul discorso dello scarico su questa che abbiamo messo da parte se andiamo a fare anche la prova di flussaggio dello scarico vedete già come portata ce l'ha poi arrivando a un certo punto ha pure dei problemi e ripeto da valutare sempre i dati dello scarico proprio perché momentaneamente devo posizionare bene i sensori però vedete nel senso inverso lo scarico ha un andamento molto più più ristretto come portata proprio perché ripeto troviamo sempre l'ostacolo della valvola quindi dobbiamo fare sempre mente locale vedere di di andare pure a vedere che la sezione dello scarico come condotto potrebbe andare bene anche se poi all'uscita abbiamo sulla testata troppo troppa sezione aperta quindi quello poi ci va a creare degli effetti di ramjet che non possono più essere migliorabili nella testata quindi non porta nessun miglioramento e allora andiamo a vedere di poter lavorare le due testate e quindi questa normale portarla più o meno a questo confronto per avere un miglioramento sia di flusso e anche come riempimento e qualche prova lo farò qui anche sulla sezione dello scarico proprio perché andiamo a cambiare pure lo stelo delle valvole come questa testata che momentaneamente questa monta lo stelo da 7 mm quindi andrò a fare qualche modifica nella seconda testata quindi questa acqua che fuori uso e poi la riporterò sull'altra testata quindi andiamo a vedere un po da vicino quello che è successo e allora siamo qui di nuovo con le testate quindi questa è la valvole che andiamo a mettere sull'aspirazione e queste sullo scarico anche se sto valutando di restringere un po la valvola proprio perché abbiamo visto che migliorando anche qualcosa sullo scarico effettivamente andare a mettere questa qua da 34 non lo so se poi vediamo farò delle prove dal limite da mettere fare 33 restringere un po lo il piattello della valvola però andiamo a vedere cosa andiamo a fare come prova sull'altro video e allora in questa che abbiamo messo fuori uso anche perché vedete già trafilamento di olio che abbiamo sullo scarico e qui sull'aspirazione non andava a lavorare bene qua c'era un lavaggio sulla parte centrale vedete mentre qui abbiamo il riflusso dello scarico che salgono qui non andava a lavorare neanche bene qui e allora cosa dobbiamo provare intanto vado a riempire la camera con del pongo e poi andiamo a lavorare la camera e nello stesso tempo vorrei fare sia sull'altra testata di andare a modificare l'andamento dei condotti interni quindi andrò a prendere un'altra direzione per poter vedere se riusciamo ad avere dei miglioramenti anche con questa sezione di sete che poi dobbiamo andare a togliere quelle dello scarico e poter fare qualcosa di più quindi andiamo a ricreare questo innalzamento sulla testata e faremo delle lavorazioni in camera e vediamo di quantificare un po il miglioramento quindi andiamo a sfruttare questa per fare alcuni lavori